Carissimi orognani, popolo dell'oro, ovunque voi siate, eccoci a un altro nostro nuovo appuntamento con Gold Day. Molto spesso ormai mi conoscete e mi sentite sempre parlare dell'oro da investimento, ma forse qualcuno è sfuggito, che azienda siamo? La mia azienda è la Gold Care Italy SRL. Siamo tre soci, la società è in Italia, con sede a Milano, e l'oro che deteniamo per i clienti è in Italia. Questi sono già i punti fondamentali, ma che cosa facciamo? Con una consulenza gratuita e qualificata, noi identifichiamo quale migliore asset e in che modo diversificare i capitali del cliente. Un cliente si rivolge a noi perché? Perché ha bisogno appunto o di diversificare i propri investimenti o di tutelare maggiormente i propri soldi. E come lo facciamo? Con dei pacchetti finiti, con dei prodotti finiti, userei dire. Abbiamo dei piani one shot. Chi dispone già di capitale può acquistare direttamente la sua quantità di oro. Chi invece dispone di meno capitale o addirittura vuole semplicemente sfruttare l'andamento dell'oro nel tempo, può programmarsi dei piani di acquisto in oro, che sono dei piani rateizzabili, personalizzabili per ognuno di voi. Ognuno si costruisce il proprio obiettivo di risparmio nel tempo. Oltre a queste abbiamo altre opportunità. Abbiamo i PDA, che sono piani diversificazione asset. Sono dei pacchetti finiti dove, per gli investitori più evoluti, diversifichiamo nella diversificazione. Offriamo diversi beni di rifugio, ovviamente prevalentemente in oro, monete e lingotti, e per una terza parte, per un terzo, anche in pietre preziosi. Abbiamo anche la possibilità di poter disporre una diversificazione della custodia dell'oro. Quindi non solo l'oro fisico nella cassetta di sicurezza, nel cavò, ma anche disporre una parte o tutto il proprio oro nel proprio wallet. Quindi cos'è l'oro nel wallet? Non è altro che offrire maggiore sicurezza. Entriamo nella tecnologia blockchain. Creiamo la digitalizzazione della ricevuta dell'oro. In pratica nel tuo wallet hai la stessa quantità fisica di oro, fisica di oro, che avresti nel tuo cavò, ma semplicemente ce l'hai in tasca e lo potrai utilizzare in ogni parte del mondo dove tu sarai. Questa è la Golgari. Un'azienda semplice, un'azienda dinamica, è un'azienda molto preparata. Abbiamo ovviamente tutti i profili social. Il sito golcare.it, il blog golcareoro.it e su tutti i social, da Facebook, a LinkedIn, a Instagram, potrete sempre trovarci. Naturalmente sul blog troverete anche i nostri podcast in Spreaker e tutte le novità che noi inseriamo quotidianamente e settimanemente. Golgari, Italy. Una azienda a vostro servizio con oro da investimento. Ciao, alla prossima.